salve ragazze eccomi qui con un altro video allora mi volevo far vedere cosa mi è arrivato allora mi è arrivato il pacco il terzo ordine della ivorushi come vedete ho avuto la borsa eccola qua e questa è la borsa ecco se non si vede niente è carina poi grandissima allora vi faccio vedere ora apro il pacco a questo è l'anello dal tutto il tutorial di valentina o però se vedete mi mancavano a me mancavano delle rondelle quindi non le ho messe poi ho comprato il materiale quindi ora le faccio un sacco di questi anni che sono troppo belli grazie grazie vale allora è questo il pacco ora ci sono anche i prodotti in omaggio che ho avuto perché quando si diventa consigliera di bellezza se hanno sette questi sette prodotti in omaggio in più ci sono i prodotti delle clienti che vi faccio vedere allora allora qua c'è il primo pacchettino di questa cliente qua allora ha preso questo gel doccia al come si chiama vediamo gel a loto che ha preso pure e fiori di loto ha preso pure il del dorante e altri due dei dorantini uno al limone verde e un altro è un altro al fiore di cotone d'india poi e questa è la prima cliente poi poi la seconda cliente ha preso vabbè questo è un set dove gli hanno messo per la festa della della donna ha preso questo set con questi due prodotti uno è un latte corpo agli agrumi eccolo qua e un altro è il gel sempre per la doccia poi ha preso il gel questo qui della marca purcal 1000 allora io lo sto usando mi sto trovando benissimo poi farò una recensione sono arrivata già a me a me a mezzo prodotto e vi devo fare la recensione perché mi trovo benissimo però voglio dire pure gli inci vi voglio dire voglio parlare di questo prodotto qua poi ha preso questa matita poi ha preso questo gloss poi se volete sapere i prezzi me lo dite infatti ci sta un sacco di roba qua poi questo qui è un prodotto per i piedi lavanda bio e poi mascara questo qui e poi e questa cliente ha finito poi un'altra cliente invece ha preso questo shampoo all'ortica la virus c'è fa tanti sciampi per esempio ne fa uno con l'ultimo che mi sono ho provato io quello dell'anticaduta non lo so mi sto accorgendo che lo posso usare una settimana sì non è una settimana non tutte le settimane poi vi farò la recensione anche di quello poi e poi ha preso sempre un gel doccia al al gel all'aloe vera poi ci sono un po poi questo è l'acido di risciacquo se l'acido di risciacquo poi questo è un altro sempre gel al caffè poi questo è uno shampoo per i riflessi biondi cioè fa in poche parole fa uscire il colore del tuo capello naturale non è che colora o fa qualcosa li schiarisce leggermente penso poi va bene poi ci sono gli album gli album nuovi poi altra cliente ha preso questo bagnoschiuma il latte corpo sempre all'amora poi questo è una specie di profumino sempre all'amora poi la cipria poi ha preso il correttore del difetti zero di quella marca ecco della sebo specifica questo qua e poi ha preso il burro cacao all'ambone ok poi poi ci sono i cataloghi poi altra cliente ha preso allora questo temperino per le matite grandi e infatti ha preso una specie di set con una questa matita qua poi quest'altra qui marrone sempre ha preso questa qui azzurra bella questa qua e poi ha preso quest'altra qua quattro matite questa è lilla e poi un gloss un altro gloss un altro gloss che ha preso un altro gloss che ha preso pure un altro cliente questo se non mi sbaglio sa cinque qualcosa questa maschera qua e i gloss invece sono quattro quattro euro non mi ricordo i gloss poi questo è un altro gloss e bordeaux questo è un altro gloss si sono mischiati tutti i prodotti e poi questo qui è un balsamo labbra allora diciamo che questo forse è proprio piccolo questo qui per costare 2 euro e 95 sono non sta scritto nemmeno ah si sono 7 ml è proprio piccolo per essendo un bassamo labbra uno se ne mette poco cioè non è che devi metterne chissà quanto di prodotto penso però è proprio minuscolo cioè dal catalogo sembra più grande ma è minuscolo proprio allora ora vi faccio vedere ah e poi invece dove stava questo set di questo set alla mora mi hanno dato anche il cestino eccolo qua che si mette questo cestino dentro e stava tutto il set che costava 15 euro tutto il set allora poi vabbè ci sono gli album e ora vi faccio vedere i prodotti in omaggio che mi hanno mandato a me come consigliera allora questi sono tutti i campioncini che poi io volevo dirvi anche grazie per perché sono arrivata 80 iscritti con pochi video comunque che ho fatto e quindi questi sicuramente saranno un regalo per voi appena arrivo a 100 iscritti farò subito qualcosa per voi e quindi questi sono tutti i campioncini ma sarà una marea di campioncini qua dentro poi sono sette prodotti che vi danno in omaggio che si possono vendere o apprezzo lo potete vendere possiamo usare noi consigliere come meglio vogliamo allora questo qui è il sapone della linea amamelis che se non mi sbaglio se mi ricordo bene mi sembra che non si fa più non lo so se si fa ancora mi sembra sia andato in rottura se ricordo bene infatti io ho preso il bagno schiuma e sinceramente di questo qui mi dico la verità non è che mi piace molto l'odore e mi sembra pure che non ci sia più comunque questo qua ma non so se sto sbagliando oppure ho letto male ho capito male poi questo qui è lo struccante viso occhi con questi struccanti qua sia quello bifasico che quello lì non bifasico io mi sto trovando benissimo mia sorella sta usando quello lì non bifasico io il bifasico ma è buonissimo non brucia gli occhi almeno quell'altro prodotto questo qui non lo so poi come hanno mandato quest'altro qui un siro vegetale sempre questi in omaggio sono questo è un siro vegetale come hanno mandato questo latte idratante e di questo qui io sto usando pure il latte detergente che pure mi sto trovando benissimo comunque io mi sto trovando bene con questi prodotti della Ivoroshi non solo perché io sono un po' fissata mi guardo pure gli inci certo non sono tutti 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 verdi perché bisogna andare nei negozi super biologici oppure bisogna farsi il prodotto da sola però sono meglio di altri prodotti di altri prodotti anche essendo un soggetto allergico quindi è meglio che vedo quello che mi metto e questo quindi è un latte per il corpo poi 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 mamma mia quante cose stavano in questo pacco poi mi hanno regalato questo qui sempre questi gel doccia poi mi hanno dato questa crema deve essere buona questa qua anche se ho visto l'inci che non perché io avendo seguito i tuoi video seguendo Carlitta dolce che la saluto grazie bellissimi suoi video e mi sono un poco fissata con questi inci ma io vi giuro che non ho mai guardato un inci ho seguito i suoi video sono un anno e mezzo che mi fisso con questi inci e però deve essere buona pure questa qua nonostante qualche tre pallini rossi ci sono qua dentro però comunque buona che se uno si mette a guardare pure gli inci a fine che mi fisso qua allora e quindi mi hanno regalato pure questa crema e poi questa qua per le mani cioè in poche parole loro la Ivorushii ti manda sette prodotti che tu puoi fare quello che vuoi e questa qua è la crema per le mani ah mi sono dimenticata una bussina di una cliente allora ha preso questo altro deodorante alla lavanda e poi si sono imbrogliati tutti i prodotti è un po' scuro poi ha preso questo correttore questo correttore e poi questo mascara diciamo che io non mi immaginavo proprio di cioè che potessi avere tutti questi ordini certo non si guadagna chissà che cosa però non solo i prodotti in omaggio che ti danno le offerte che ti fanno comunque mi sta proprio piacendo un sacco un sacchissimo proprio e poi mi diverto perché poi mi diverto pure anche perché sono proprio le clienti che mi cercano non vedono l'ora di vedere l'album nuovo e quindi è pure un fatto che deve essere preso come un divertimento più che altro non per chissà che cosa va bene questo è tutto fra poco pubblicherò anche l'album farò pure il video dell'album 3 in questi giorni però non so se lo carico ora vi saluto grazie ancora per tutte le iscritte vi mando un bacio al prossimo video